Di certo non è che posso cavarmela con poco, ecco. Lev, vai dai, mi devi una pizza. Mi devi una pizza. Tutto quello che sto facendo per te, ti sto venendo a cercare. In quel tempo rubo roba vostra qua, eh. Ho rubato il minimo indispensabile. Ah, vabbè, però potevo anche andare dall'altra parte, vabbò. La vita è segnata da perdite. La cipita. Merda. Dentro, resta. Vai andiamo. Cazzo. Cazzo, cazzo, cazzo. Poi ti vogliono ammazzare, Lev. Ti vogliono ammazzare. Mi sono infetti in giro, vero? Io controllo sempre la roba qua. Non si sa mai. Ecco appunto, munizioni. Vai andiamo, 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 andiamo. Vabbè, dai, diciamo che è più tranquillo. Cioè, rispetto a prima è tranquillo. E chi si ferma? Io avui sto seguendo, eh. Non voglio avere a che fare con gli infetti. Vai, Lev, vai. Faccio il mio aglio. No! Nooo! Lev, dobbiamo andare. No, no, no! Vedo qualcuno! Non posso lasciarla qui, indietro! Cercala, subito! Porca troia! Eppi! Anzetto indietro! No! Date per me! Nooo! Isaac! Isaac! Che diavalo stai facendo? Devi starmi a sentire. Chi è quello di dietro? Gli devo la vita. Togliti, con te faremo i conti a casa. Non è dei loro, ti prego! È bispostati! Cristo, è solo un bambino! Ti do tre secondi per allontanarti da quella iena. Uno. Vuoi spararmi? Due. Non mi sposto, cazzo! Eh! No! Ma che cazzo? No! No, è ancora più... No! 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 Lev, dobbiamo andare. È morta. Oh mio Dio, è morta. Lev, andiamo! Quella era la tua gente! Sei tu, la mia gente! Ascolta, dobbiamo batterci per uscire da qui. Ho bisogno che tu mi porti a quelle barche. Nessuno ci deve fermare. Ok? Ok. Ok. Seguimi. No! No! No, raga, no! Prendi il possibile. Ho già quello che so. No, adiu, no! C'era ancora viva! Era viva! Ci ha salvato la vita di nuovo! No, regà, mi dispiace per Chiara, però... Di qua! Adesso mettiamo a Lev, siamo noi tua madre! Ce la fai, Lev? Merda. Ma per se sei sorda. No, adesso no, adesso no. C'è ancora gente, eh? Cazzo. Eh, muore. Cazzo. Che cazzo sono? Oh! Eh, che madonna! È come quella piccola iena. Oh, è questa adesso? Sopra di te! Caputana! Oh, merda! Di qua! Oh, merda! Lev, sei ancora con me? Sì. Arriviamo a mezza. Sopra di mezza. Sopra di mezza. Sopra di guardia. Dov'è l'uscita? Dov'è l'uscita? Di qua? Di qua? No. Cazzo è sta cazzo di uscita. Di là? Qua, 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 qua. Ok. Eh, di? Hai ucciso quei miei? Eh. Siamo scappati da questo. Eh. Vai, vieni, vieni Grazie Lev Grazie, grazie, è bello No, no, mi dice che ci troviamo in petto, ti prego No, 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 aspetta, 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 aspetta Aspetta, aspetta Vieni prima se ci sta Sto materiale qua Lo utilizzo Di qua Oh Dove sono le barche? Al molo Oltre agli incendi Ci conviene andare prima che le prendano tutte Giusto? Sì Non moriranno su quest'isola Lo so Dobbiamo scendere laggiù Andiamo Ancora Doviamo quelle vede Segui i punti di pietra Fecia per lui Cucidiamo la porta Provateci cazzo Merda Allora c'è un piccolo problemino Io sto sto dando polpi di fucile a pompa Ed è un problema questo Grandissimo problema questo La Sono in trappola Ammazziamoli No Mmmmm... Oh merda... Ah, questo è un numero fisico... Metti male! Quella ha un fucile! Piavola! Ti è schiattata! E tu? Eh? Eh nooo... Stanno attivizioni... Attivizioni, attivizioni... Buono, buono, buono! Pia munizioni, pia tutto, pia tutto! Qualsiasi cosa ci può servire, prendila! Ah, pizze... A posto, via! Eh, cavallo! Lev, andiamo! Sai cavalcare? Sì o meglio! Reggi! Ti, ma se mi dici dove devo andare! Ti, ma se mi dici dove devo andare! Oh mamma! Continua a dirmi dove andare! Davanti! Ci siamo! No, 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 no! Tutto bastardo! No, no, no! Tutto bastardo! Cazzo! 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 Oddio! Edno! Andiamolo qui! Non lo so! Le banche sono lì! Non lo so! Niente può fermarci! Niente può fermarci! Niente può fermarci! Aspetta! Oh cazzo! Non so! Non voglio sparare cavalli! Viva, veloce! Vai, vai, vai! Corri, corri! no non mi riusciti i cavalli cazzo oh merda oh merda eh allora lei questa ha messo un po' male ok dobbiamo andarcene ma se pende questi qua che corrono beh andiamo andiamo Lev prima ci andiamo da quest'isola meglio è prima ci andiamo da quest'isola meglio è io qua a te mi curo beh la guerra questa fa oh ma che è eh due fazioni una contro l'altro qua mi devo tenere eh io sto messo male sto messo male oh merda aia 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 a fa angula mamma mia no vai bene non c'ho più munizioni non c'ho munizioni non c'ho niente Ahia È muerto Via, scappa Scappa, 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 scappa Subito, subito Via, via Una cosa migliore qua Guarda le munizioni correre Ottimo Andiamo di qua, di qua, di qua Di qua No No Via Via Via, via, via 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 Aspetta, pari Vai, vai, vai No 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 E vi lascia sto zaino Pizzi Merda Oh, mi niente Chia, quella che ti riesce a muovere Eh, mor Pizzi Pizzi Merda Dai, eh Diecce Diecce Chia, quella là, grossa, grossa, è la tua sorella? Tua moglie? Chi era? Oh, merda Eh, tu, lo sai che fa una brutta fine Ah, ancora vivo Non sei brutto, lo sai Eh, non penso che la tua moglie ti voglia ancora Eh, no Bar Mamma mia Eh, eh, due Eh, tre Eh, tu Eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh Eh, due Eh, tre Eh, tu Fai la brutta fine stammatina Hai capito? Oh, merda Eh Merda Eh, tu E fai la brutta fine No, 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 no Vita nella vina No Che schifo Che schifo Bravo Lev Bravo Lev Ma abbiamo perso tutte le armi Ottimo Ci mancava soltanto questo Ci mancava Sì ciao Che gioco Che gioco Mamma mia Mi spiace per lei che è schiattata La barca Vai La barca Gianni. 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 C'è l'acquario finalmente. Finalmente direi. Gianni. Andiamo andiamo. Che è chiuso qua? Questo è chiuso? No. Ecco. Lo sapevo. È quel momento. È quel momento. È quel momento regà. È quel momento. È quel momento. Spiega il tutto. Non faccio mica finta di non sapere. Io avevo aperto questa borsa eh. Con Ellie. È quel momento regà. è vecchio… È già. È già. È c'erà. Oh, oh. Oh, oh. Oh, hai la mappa. Abby? Papi? Mamma mia Merda Che si fa quando lo troviamo? Prima pensiamo a conentrare Nooo Quest'ante qua noi chiudiamo la porta Nooo Nooo Non mi piace